se sei un pessimista nei confronti di quel ragazzo perché Stefano me l'ha accorto dimostrato di essere un amico perché Stefano non si discute si ama e vai ma che è sta cosa ma io me ricordavo meglio saranno i più stai che sono scaduti ma che merda sulle mani polizia io non so niente parlate con voi e ce n'errore io sono cittadino americano cittadino americano? do you speak english? oh yes che non senti? ti dichiaro in arresto scusa la pronuncia è uno scherzo questo? chiamamolo scherzo oh oh un caffè questi si bemo subito per quell'altro c'è il cellulare il cellulare tu? ma che messaggio da? il cellulare ha quattro tacche le quattro tacche ce l'avrai la cervella e il furgone ah te lo dicevo io te lo dicevo Stefano ma la corte non si discute se ci spute in faccia direttamente ma io ti sputerebbe in faccia a te no 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 allo lo sapevo che non ti è tutta retta sa a stare con te come scivolare su un tappero di cazzi do caschi caschi sempre al culo pico senti fammi una cortesia prendi la pistola ma la fonte mi spara e mi ammazza così non lo sento più questo cornuto così non la fate finita per sparare tutti e due sei un cornuto magari laPlayer laPlayer dell'amn l'amn